Ciao, sono EcoVeganMama e oggi ti parlo di uno dei miei prodotti sostenibili preferiti in bagno. Si tratta dello shampoo solido, l'utilizzo sui capelli bagnati, sotto la doccia, si passa la saponetta direttamente sulla testa, sulle lunghezze, oppure si strofina tra le mani e si usa la schiuma ottenuta per lavare i capelli. È un prodotto molto concentrato, quindi se ne usa veramente poco e una saponetta ti durerà tantissimo. Inoltre, se scegli una formulazione EcoBio, i capelli si manterranno puliti molto più a lungo, quindi dovrai fare lo shampoo meno spesso. È una scelta vantaggiosa per l'ambiente perché si riduce di tantissimo il packaging, solitamente sono contenuti in una semplice scatolina di carta e sono anche di piccole dimensioni, quindi le emissioni dei trasporti sono veramente ridotte. Se ti è capitato di provarne uno e non ti sei trovata bene, ricordati che come per gli shampoo tradizionali, ogni differente brand è adatto a un diverso tipo di capelli, quindi magari devi solo trovare quello più adatto a te. Ma adesso dimmi nei commenti se già lo usi e in questo caso qual è il tuo brand preferito e seguimi per altre EcoVeganTips.